Sono stati consegnati all'impresa aggiudicataria su iniziativa dall'amministrazione comunale di Caltagirone i lavori di ristrutturazione e adeguamento del campo sportivo a Gesilao Greco. I lavori che comporteranno la spesa di circa 2 milioni di euro prevedono il repristino degli spalti, degli spogliatoi e un terreno di gioco in erba ecosostenibile, vale a dire erba sintetica ultima generazione. Finalmente la città di Caltagirone dopo circa 15 anni potrà avere finiti i lavori che dureranno circa due anni uno stadio davvero all'avanguardia di ottima qualità. Abbiamo consegnato i lavori alla ditta Capizzi che ha peraltro una lunga esperienza nella realizzazione di stadi avendo realizzato lo stadio Massimino di Catania e siamo certo che nel più breve tempo possibile al massimo due anni restituiremo alla città un nuovo a Gesilao Greco perfettamente funzionale che sono certo ridesterà l'amore e la passione per il calcio nella nostra città. Quanto alla tempistica gli interventi dovrebbero prendere il via entro il prossimo mese di novembre. I lavori la cui ultimazione sarebbe prevista entro fine 2025 avranno la durata di circa 18 mesi. Quanto alla tempistica fornire maggiori chiarimenti a riguardo è l'assessore ai lavori pubblici Paolo Crispino. Contiamo di iniziare materialmente i lavori entro il mese di ottobre e i primi giorni di novembre. Da crono programma dovrebbero durare circa un anno e mezzo quindi contiamo entro la metà del inizio 2026 di consegnare il nuovo impianto alla città. Il progetto di ristrutturazione del vetusto campo sportivo e impianto risalente agli anni 50 fu a suo tempo finanziato dalla regione siciliana e dalla precedente giunta municipale retta dall'ex sindaco Gino Ioppolo della quale era assessore allo sport Antonio Montemagno che sul piano politico amministrativo ha seguito le procedure di finanziamento. Si tratta di un progetto che noi ereditiamo dalla precedente amministrazione dalla ragione per la quale ho voluto che fosse presente alla consegna ai lavori insieme all'assessore Mico Liardio e al vice sindaco Paolo Crispino anche il consigliere comunale Montemagno all'epoca assessore allo sport proprio per definire il profilo di continuità istituzionale e amministrativa che ha reso possibile la realizzazione di un progetto di straordinaria importanza per la nostra città. Grazie a tutti i nostri spettatori